Una banda di ladri catanesi è stata beccata dai carabinieri della stazione di riposto insieme ai militari di Sant'Alfio e del nucleo radiomobile della compagnia di Giarre che hanno arrestato un 26enne, un 37enne e un 47enne gravemente indiziati di furto aggravato. I militari sono intervenuti a San Leonardello di Giarre dopo una segnalazione che denunciava la presenza sospetta di un uomo lungo la strada statale 114 nelle vicinanze di un deposito di otomezzi destinati alla raccolta di rifiuti solidi urbani. I coinvolti hanno tentato rifuggire in auto ma il guidatore è stato costretto ad accostare grazie all'intervento a tenaie di due pattuglie vicino a un centro commerciale in contrada Rovettazzo. Nel corso della perquisizione personale veicolare sono stati rinvenuti due seghetti a batterie e varie lame. Dalle immagini del sistema di videosorveglianza del deposito è venuta la luce e la dinamica dei fatti. Due soggetti, uno era rimasto alla guida del mezzo, si sono diretti nella struttura. Un ladro faceva da guardia e l'altro si era diretto nel parcheggio avvicinandosi a un mini compattatore rubando il catalizzatore dall'impianto di scarico. I tre poi sono scappati fino a quando non hanno dovuto bloccare la loro corsa costretti dall'intervento delle forze dell'ordine. L'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Dal corrente anno a Catania e provincia sono state esporte circa 100 denunce di furto di catalizzatori, 5 di queste per automezzi usati da ditte specializzate nella raccolta di rifiuti solidi urbani oppure macchine di tipo industriale. La spiegazione per questa predilezione risiede nell'elevato costo dei ricambi. L'attività dell'arma ha permesso di arrestare in flagranza di reato di furto 12 persone. Sono stati deferiti in stato di libertà 4 individui rinvenuti nel corso di un'operazione antidroga a Librino 18 catalizzatori rubati. A tal proposito i militari stanno indagando per identificare i legittimi proprietari.